Anche quest'anno l'associazione turistica Cilento Mania sarà presente al TTG Incontri, in programma fino al 10 ottobre a Rimini. Il TTG Incontri è la fiera del turismo per eccellenza dove tutta l'industria dei viaggi si riunisce per contrattare e fare networking. Ha commentato Orlando Di Scola, presidente di Cilento Mania, è fervido sostenitore dell'idea secondo la quale la promozione e gli incontri B2B sono fondamentali per il riposizionamento del prodotto Cilento all'interno del mercato turistico nazionale ed internazionale. Promuovere e contrattare, queste sono dunque le parole d'ordine per il presidente di scuola e per i suoi collaboratori entusiasti di partecipare ad un evento così importante per il sesto anno consecutivo. La partecipazione al TTG Incontri rientra infatti nella mission dell'associazione turistica Cilento Mania, la cui attività è incentrata sulla promozione del Cilento e della sua offerta turistica, ma anche sulla consapevolezza che fare rete e interagire con le altre realtà presenti sul territorio sia fondamentale. A dimostrarlo la partnership con i comuni di Castellabate, Agropoli, Capaccio e Pollica e con il GAL Cilento Regenerazio che hanno contribuito alla realizzazione dello stand e con gli operatori locali che come gli altri hanno confermato la propria fiducia a Cilento Mania. Da oggi e per tre giorni della fiera presso lo stand benvenuti nel Cilento sarà possibile reperire materiale informativo sul Cilento, sui comuni che ne fanno parte e conoscere da vicino i molteplici aspetti di un territorio che vanta una storia e una cultura millenaria. Storia e cultura ma anche gastronomia e tradizione. Lo staff di Cilento Mania allestirà infatti un desk con i prodotti tipici del Cilento, dando la possibilità a quanti vorranno di assaggiare i cibi cardine della famosa dieta mediterranea. Tre giorni intensissimi dunque che vedranno Cilento Mania e il suo staff impegnati con un'agenda ricca di appuntamenti durante i quali si getteranno le basi per le future collaborazioni con buyers nazionali ed esteri e con gli operatori del settore ai quali verrà presentato e descritto il Cilento e la sua variegata offerta turistica.